Grazie Alexandre, eminenza, eccellenza, cari colleghi, cari amici, buongiorno a tutti e a tutte. La Toscana, Firenze in particolare, può essere considerata la culla dell'umanesimo europeo. E' sufficiente menzionare l'eredità di queste due grandi figure, Dante Alighieri, nato in questa città dal genio particolare, e Giovanni Pico della Mirandola, che ha terminato qui la sua vita. Nel suo incontro con i partecipanti al V Convegno Nazionale della Chiesa Italiana, quattro anni fa, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Papa Francesco ha evocato un nuovo umanesimo, che aveva già auspicato davanti al Consiglio d'Europa l'anno precedente. Verosimilmente, il primo umanesimo, che ha generato l'antropocentrismo occidentale, ha bisogno di essere rivisitato. Pur conservando sempre viva la memoria dei valori che ha generato e delle loro istituzionalizzazioni politiche, diritti dell'uomo, libertà, uguaglianza e fraternità, così come le nostre costituzioni democratiche, dobbiamo anche interrogarci sulle terribili perversioni che si sono prodotte nella sua zona di influenza e sulla crescente incapacità delle nostre società europee a porvi rimedio. Sullo sfondo di queste paralisi si situa un vero cambiamento epocale, non un'epoca di cambiamento, quanto un cambiamento d'epoca, si legge nel discorso del Papa. Cambiamento che non si è fermato davanti alle porte della Chiesa e che si manifesta oggi in una crisi sistemica di quest'ultima. La pedocriminalità è senz'altro in primo piano, ma i cambiamenti delle modalità di appartenenza alla Chiesa, o più ancora le prese di distanza rispetto ad essa, sono ben precedenti. Senza parlare delle difficoltà della comunità cristiana a far risuonare il Vangelo, in modo che esso possa raggiungere il cuore della gente. Da qui l'invito costante del Santo Padre a una riforma della Chiesa a partire dal centro della fede, il Kerigma o il Vangelo. Come dice in questo stesso discorso, una riforma che corrisponda al cambiamento d'epoca al quale assistiamo e che porti ad inventare un nuovo stile di vita cristiana nel mondo contemporaneo e una nuova maniera di esservi presenti, stile o maniera di cui il fondamento e l'effetto potranno essere colti dai nostri contemporanei come un nuovo umanesimo. Teniamo presente la struttura triangolare che emerge dai differenti poli che sono stati appena evocati e che in ragione della loro articolazione più o meno appropriata conferiscono alla tradizione cristiana la sua mobilità interiore e la aprono alla creatività umana. Il Vangelo di Dio, quale si incarna nell'itinerario di Cristo Gesù, l'ecce homo, i Suoi destinatari, cioè il contesto in cui bisogna annunciarlo, ovvero le nostre Galilee di oggi e la Chiesa che lo annuncia, il popolo di Dio doppiamente decentrato e quindi da un lato in ascolto del Vangelo e dall'altro pronto a captare le aspirazioni e le inquietudini che si esprimono nelle nostre società. Bisogna cominciare da queste ultime per scorgervi dei segni dei tempi prima parte per potersi interrogare in seguito sul Vangelo di Dio e sulla maniera ecclesiale di renderlo presente seconda parte di renderlo presente in seno alle nostre culture contemporanee precisamente nella forma di un nuovo umanesimo terza parte prima parte per una diagnosi del momento presente il discorso fiorentino di Papa Francesco situato sulla scia della sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium ha conosciuto importanti ulteriori sviluppi in particolare la formulazione già ricordata per cui non viviamo un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'epoca è stata citata esplicitamente nel preambolo della costituzione apostolica Veritatis Gaudium del 2018 quest'ultima parla di un cambiamento d'epoca segnato da una complessiva crisi antropologica e socioambientale nella quale riscontriamo ogni giorno di più sintomi di un punto di rottura a causa della grande velocità dei cambiamenti e del degrado che si manifestano tanto in catastrofi naturali e regionali quanto in crisi sociali o anche finanziarie si tratta in definitiva di cambiare il modello di sviluppo globale e di ridefinire il progresso continua il documento il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire leadership che indichino delle strade fine della citazione torneremo su questa diagnosi di grande lucidità notiamo però sin d'ora l'intimo nesso che il Papa stabilisce tra la crisi antropologica e la crisi socioambientale possiamo qui adottare il termine ancora controverso di antropocene che designa una nuova epoca geologica della Terra dopo l'età dell'Olocene gli ultimi 12.000 anni la Terra subisce in quanto sistema gli effetti della demografia della tecnologia eccetera quali azioni umane che diventano la forza geologica predominante questo impatto la lettera ai Romani lo designa dando voce al gemito di tutta la creazione Romaniotto 22 mentre San Francesco e l'enciclica Laudato Si apparsa poco prima del quinto convegno della Chiesa Italiana parleranno del grido della Terra legando questo grido al grido dei poveri in tutta la tradizione cristiana destinatari privilegiati del Vangelo l'enciclica mostra che non si può giocare l'una contro l'altra l'ecologia e l'economia la e la sua intuizione rivoluzionaria nella situazione in cui ci troviamo bisogna innanzitutto constatare la differenza di questa diagnosi rispetto all'umanesimo antropocentrico della costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II quest'ultima non conosce ancora la crisi dell'umanesimo occidentale né è toccata dai problemi ecologici e da quelli del tutto nuovi posti dai recenti sviluppi delle tecnoscienze un nuovo umanesimo deve in modo prioritario prendere in considerazione l'unicità dei nostri fragili itinerari individuali che si dispiegano nella penombra delle nostre società prospettiva totalmente assente in Gaudium et Spes tali fragilità sono immagine di quella delle nostre società europee che si trovano a far fronte non solo ai problemi della convivenza ma anche al fascino per le tecno e le bioscienze e ai timori ecologici queste ultime due sfide mettono a dura prova il nostro senso etico quando si tratti di sapere che cosa conviene fare qui e ora e per la vita delle generazioni future sul nostro pianeta riprendiamo rapidamente queste due sfaccettature della nostra situazione attuale l'aspetto individuale quello collettivo lasciando che la fede vi discerna i veri segni della presenza o del disegno di Dio Gaudium et Spes undici innanzitutto cominciamo la nostra diagnosi orientando il nostro proiettore sui nostri fragili itinerari individuali e partiamo dal fatto elementare che noi non abbiamo che una sola vita questo fatto è tra i più evidenti di tutti quelli che si impongono a noi ma verosimilmente è il meno accessibile alla nostra consapevolezza poiché è dimenticando quotidianamente questo limite che avanziamo sulla strada delle nostre lotte per la vita rischiamo rischiamo però nel tran tran di ogni giorno di non percepire più di non percepire più ciò che rappresenta l'unicità di una vita umana unica poiché si dispiega tra la nascita e la morte ordinariamente la nascita di un bambino è un grande momento di grazia la comparsa unica di una nostra vita viene ricevuta dai genitori dalla famiglia dall'ambiente sociale come un dono inaudito fuoriero di una promessa il cui compimento è imprevedibile e indicibile bisognerà perciò che una fede elementare una fede elementare si congiunga a questa nuova vita per portare l'incompiuto di questa promessa di cui del resto i contorni non possono essere determinati in anticipo l'umanesimo biblico e cristiano consiste precisamente nell'aver intimamente collegato il carattere buono e promettente di ogni vita e il divieto di farsene un'immagine l'uomo è creato a immagine e somiglianza di colui che non ha di cui non ha il diritto di farsi un'immagine spetta l'uomo stesso dare forma alla propria esistenza processo difficile e complesso poiché le condizioni di partenza nelle quali gli si trova sono inevitabilmente limitate e imprevedibili sono le contingenze relazionali e gli eventi che lungo tutto il corso della sua vita si produrranno risulta dunque decisivo per proseguire il cammino che la fede elementare ancorata alla bontà fondamentale della vita nasca in lui emergenza misteriosa poiché al tempo stesso suscitata dalla bontà della voce parentale è necessariamente proveniente dall'interno del piccolo duomo stesso quando gli impara a camminare e a parlare e viene educato condotto all'uscita per diventare capace di stare in piedi nella società nessuno infatti potrà vivere l'avventura della sua vita al posto suo si potrebbe confondere l'istinto di sopravvivenza e questa fede o fiducia elementare l'essere umano conosce in effetti delle grandi tappe di calma in cui la sua esistenza si svolge quasi automaticamente e senza particolari interrogativi sono però inevitabili i momenti di crisi crisi nel senso biomedico del termine che designa un disequilibrio tra due stati di maturità o di equilibrio sempre relativo passiamo dalla prima infanzia all'infanzia e dall'infanzia all'adolescenza la soglia che ci separa dall'età adulta è difficile da attraversare poiché oggi trovare un lavoro che permetta al soggetto di realizzarsi di sopperire alla propria esistenza incontrare un partner fondare una famiglia trovare un'altra via tutto ciò è diventato un vero percorso a ostacoli un fronte di combattimento che conosce degli arretramenti e dei progressi dopo la fase generativa in tutti i sensi viene quella di un primo ritirarsi l'età spesso molto attiva della pensione che apre nuove possibilità ma che consiste anche nell'apprentistato dei limiti prima che arrivi la nuova tappa che l'allungamento della vita ci offre quella della quarta età è il suo compimento certo ma sempre imprevedibile a queste crisi di passaggio o di maturazione si aggiungono quelle più o meno importanti che derivano dai successi e dai fallimenti dei nostri progetti in più vi sono in definitiva gli innumerevoli eventi che si producono all'improvviso e che ora in modo felice ora in modo nefasto modificano l'itinerario della nostra strada che noi credevamo così ben determinata si in francese si dice si diventa malati e si diventa innamorati e in queste diverse situazioni di crisi termine al quale bisogna togliere la connotazione immediatamente negativa che appare più nettamente la distinzione tra un semplice istinto di sopravvivenza e la fede o fiducia elementare e in questi momenti infatti chiamati talvolta situazioni di avvertura disclosure situations che si apre come una finestra sulla totalità unica dell'esistenza al tempo stesso data e assente nei suoi contorni ultimi il soggetto è chiamato a ridare senso alla propria vita a riattivare la fiducia e a posizionarsi di fronte alla bontà originaria della vita e alla promessa che essa include in questo emergere di una fede o fiducia elementare il discernimento cristiano può individuare dei segni discreti della presenza dello spirito secondo punto ciò che è stato detto sulla fiducia elementare vale a forziori per le nostre società contemporanee private del loro rivestimento religioso e esposte a un vuoto il vuoto del loro avvenire esse devono trarre profitto dalla diversità interna degli orientamenti spirituali e di tutti i loro membri ora simultaneamente e collegate a queste grandi trasformazioni spirituali sono emerse delle potenze inedite e se poggiano su un nuovo rapporto dell'uomo all'area terrena ormai dominata dalle scienze e dalla tecnica e sulla loro scia dal mercato dei beni e dal mondo della finanza che è diventato anonimo sfugge in gran parte a ogni controllo politico in questa situazione inedita due indicatori principali caratterizzano la nostra traversata collettiva la profonda crisi di fiducia che lacera la nostra convivenza e la minaccia che pesa sul nostro futuro comune in ragione dell'estrema gravità della crisi ecologica e del fascino anestetizzante che esercitano su una buona parte dell'umanità gli sviluppi esponenziali delle tecno e bioscienze la fiducia di una società è un fenomeno complesso che attraversa e mobilita tutti i livelli della convivenza del vivre ensemble entra in gioco non appena ci frequentiamo anonimamente per strada al lavoro nei luoghi pubblici nei mezzi di trasporto la fiducia è all'opera quando ci affidiamo alle nostre istituzioni e a coloro che le sostengono fornendoci la sensazione di un minimo di stabilità e coinvolgendoci nell'invenzione di un avvenire comune la fiducia è coltivata o maniciata dall'insieme di discorsi pubblici i nostri mass media i social network pensiamo alle fake news talvolta basta poco per far oscillare la fiducia ogni novità ogni imprevisto mette alla prova la sua solidità silenziosa lo straniero il rifugiato l'immigrato eccetera ma anche il povero il malato o l'andicappato sono portatori di questo inatteso e in questo senso sono indicatori viventi dello stato di fiducia di una determinata società così si forma si decompone incessantemente tutto un clima comune descritto dal linguaggio meteorologico o medico di alta e bassa pressione di depressione malinconia euforia eccetera con le sue sfumature e diverse misure clima che ci dà la percezione di come la fiducia o gli attacchi che essa subisce se non addirittura la sua perdita sono degli atti o delle prove che colpiscono il corpo sociale intero e in quest'ultimo nel suo insieme con i suoi diversi rappresentanti che è il quasi soggetto di tale clima di fiducia o di paura le nostre società non funzionano e non vivono soltanto innanzitutto grazie a questo o quel progetto o programma di riforma socio-economica e culturale manipolabile a volontà ma dispiegano il meglio delle loro energie quando possono appoggiarsi su un grado elevato di fiducia dei concittadini gli uni rispetto agli altri e di tutti rispetto a ciascuno si è potuto credere per secoli che le nazioni europee fossero perenni mentre gli individui non avevano che una sola vita ora l'umanesimo europeo che ha fornito alla nostra cultura una base spirituale incontestata si sgretola sotto i nostri piedi e gli sconvolgimenti del ventesimo secolo e dell'inizio del ventunesimo ci fanno progressivamente capire che le nostre società non sono immortali e che la civiltà europea nel suo insieme può sprofondare nella decadenza nella violenza e nella morte a questo si aggiungono due fenomeni contraddittori già evocati la crisi ecologica e il dispositivo delle tecno e bioscienze che sembrano porre fine all'eccezione umana in seno al mondo animale come non essere affascinati da queste possibilità quasi illimitate che quest'ultime ci offrono e come non provare al tempo stesso un sentimento di apprensione e di timore di fronte a effetti perversi a sanzioni ecologiche irreversibili e già ben percepibili davanti alla scomparsa di interi territori di vite umane in massa di molte specie viventi è un'esplosione del mondo della vita sul nostro globo che non controlliamo più come per l'individuo la questione che si pone alle nostre società è dunque quella di una fiducia o di una fede elementare o persino di una speranza sorgente spirituale che ha irrorato i fondatori dell'Europa questo o quel movimento o personalità ma che resta oggi inaccessibile se essa non emerge dall'interno e dal più profondo delle nostre collettività nazionali e regionali per utilizzare un'altra analogia come la traversata individuale delle nostre esistenze raggiunge una certa maturità quando la fede elementare legata alla bontà fondamentale della vita nasce in qualcuno e diventa in lui fonte di vita così il corpo sociale accede a un certo sviluppo quando la sua convivenza non è più solo fondata su una legge esteriore ma su un'autentica fiducia condivisa e una fiducia condivisa nell'avvenire in tali emergenze il discernimento cristiano può nuovamente individuare dei segni discreti della presenza dello spirito impegnandosi così in una diagnosi non imbellettata della situazione attuale delle nostre società la chiesa può ricominciare a interrogarsi sull'impatto possibile del Vangelo che essa è chiamata ad annunciare in ogni occasione opportuna e non opportuna veniamo così alla seconda parte rendere il Vangelo presente è venuto il momento di attirare l'attenzione su una specificità della tradizione cristiana di cui abbiamo già percepito la struttura triangolare in ragione della sua insistenza sull'incarnazione essa non può separare il Vangelo di Dio e coloro che lo annunciano il Vangelo piccola definizione del Vangelo questa notizia sempre sempre nuova di una bontà incondizionata che in un mondo attraversato dal male non può avere per garante se non colui che noi chiamiamo Dio questo Vangelo non esisterebbe nella nostra storia se non fosse reso effettivamente presente innanzitutto da Cristo stesso in seguito e in suo nome dai suoi cioè dalla sua chiesa la tradizione cristiana non è una religione del libro fosse anche la religione della Bibbia unicamente a disposizione di coloro che la sanno leggere né quella di una dottrina complessa come dice Papa Francesco di una dottrina che perde la sua novità nel momento stesso in cui se ne è presa conoscenza no il Vangelo è una presenza parousia una presenza di persone in relazione abitate da questo Vangelo una presenza ecclesiale sempre nuova perché in situazione qui e ora solo una tale presenza concreta in mezzo agli uomini e alle donne in seno alle nostre società in carenza di fiducia potrà essere all'altezza della diagnosi che è stata appena proposta e ripristinare la credibilità della chiesa in gran parte perduta nella crisi che attraversiamo e precisamente nel punto in cui la lettera delle nostre scritture e delle nostre dottrine rinvia a un qui ed ora ovvero a una messa in forma effettiva e concreta delle nostre esistenze sempre uniche e in presenza da altri che interviene la nozione di stile il cristianesimo come stile la sensibilità stilistica emerge dunque nelle assenze o nei punti ciechi del concilio vaticano secondo appena indicati nella nostra diagnosi del momento presente per mostrarlo sarà necessario fornire alcune precisazioni intorno alla nozione di stile ereditata dall'arte e dall'estetica e soprattutto mostrare in che modo essa permette di mettere in risalto i tratti che caratterizzano Gesù Cristo nella sua unicità e le nostre esistenze credenti sempre uniche prima di ritornare secondo luogo sul nuovo umanesimo auspicato da Papa Francesco primo punto dunque il primo ad aver introdotto il concetto di stile al centro della teologia cattolica è Hans Urs von Balthasar egli lo situa precisamente nel punto di contatto tra il Vangelo e colui o colei che vi crede e lo rende perciò stesso presente lo stile dice dunque la concordanza la concordanza di un'esistenza credente con se stessa e in definitiva la concordanza tra la missione di Cristo e la sua esistenza interamente obbediente al suo padre esso dice altresì al tempo stesso la capacità questa nazione di stile la capacità della fede di percepire tale concordanza con se stesso rispetto a ciò che le sta di fronte Balthasar parla in questo caso della percezione dell'arte divina o della santità modellata da Dio esaminando le cose più da vicino il concetto estetico di stile si impone nel momento in cui ci si trova di fronte alla singolarità di un'opera di un determinato autore di una persona unica di fronte al suo atteggiamento o portamento che non rientra in una comparazione classificatrice ma in una manifestazione di un'unicità incomparabile e di un'autentica innovazione e precisamente quanto va percepito nella manifestazione della figura di Cristo la sua unicità incomparabile di figlio unigenito del padre e la novità sempre nuova del suo Vangelo l'unicità e la novità di tale opera o di tale persona non possono dispiegare il loro impatto proprio se non in un evento di incontro in cui lo spettatore l'uditore o semplicemente l'altro incontrato si lasciano coinvolgere nel processo stesso della creazione dell'opera o della messa in forma dell'esistenza così come proposto nell'incontro e anche quanto avviene nella relazione tra Gesù e coloro che egli incontra sulla sua strada tra lui e chiunque tra lui e quanti egli chiama a diventare suoi discepoli in vista di un'opera comune che consiste nel lasciare avvenire qui e ora il regno di Dio e infine questo impatto di un'opera sempre unica sul recettore o di un'altra persona sull'altra di cui essa libera le forze creatrici si produce nel mondo nel mondo lo stile di qualcuno si può riassumere in una maniera di abitare il mondo e di orientare quest'ultimo in direzione di una delle sue parti essenziali operazione di metamorfosi trasfigurazione che crea un mondo altro il mondo abitato dall'artista ora è esattamente quanto avviene nell'incontro tra Gesù e i suoi i ciechi vedono i sordi odono una nuova maniera di abitare il mondo emerge il mondo vecchio è passato è già nato un mondo nuovo secondo a Corinti 5 l'analogia tra l'opera d'arte l'artista e lo stile di Gesù riposa evidentemente sull'idea di concordanza concordanza e questa concordanza tra la forma e il contenuto che fa il valore stilistico di un'opera d'arte così come l'accordo tra l'atteggiamento di qualcuno e la sua grandezza d'animo determina ciò che è chiamata la sua autenticità quanti hanno incontrato Gesù nel corso della sua attività di predicatore taumaturgo non si sono sbagliati in proposito mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo dicevano le guardie del tempio incapaci di impossessarsi di lui Giovanni 7 46 questa concordanza di Gesù con se stesso dobbiamo chiamarla con Balthasar la sua santità potremmo tradurla anche come assenza di menzogna Apocalisse 14 5 o unità tra pensiero parole e atti o ancora più semplicemente la sua autenticità come abbiamo visto però lo stile di Gesù la sua concordanza con se stesso che manifesta la sua unicità non può che dispiegarsi nella sua novità inesauribile negli eventi di incontro con chiunque così come con i suoi discepoli si può descrivere questo secondo tratto stilistico della sua santità in termini di ospitalità particolarmente messa in atto nel Vangelo e negli atti di Luca tutti gli elementi costitutivi di questo fenomeno si trovano qui verificati la simmetria di partenza la non reciprocità tra chi domanda ospitalità e colui che la offre il rischio che assume colui che accoglie perché non sa in anticipo chi sta per accogliere chi è quest'ospite che si presenta a casa sua all'improvviso rischio di cui rimane traccia nelle nostre lingue indoeuropee per le quali ospes ospite e ostis nemico hanno la stessa radice in partenza l'ospitalità chiede dunque che si faccia un atto di fiducia si potrebbe persino dire un atto di fede elementare atto che assume profondità man mano che colui che accoglie diventa consapevole della vulnerabilità di colui che è accolto e si vede così rinviato alla sua propria vulnerabilità consentendo a consegnare qualcosa di se stesso forse a consegnarsi a aprire casa sua egli può suscitare la fiducia dell'altro aiutarlo a lasciar cadere la sua corazza per così dire e a consegnarsi a sua volta la fiducia genera fiducia allora può instaurarsi una simmetria o persino una reciprocità tra le due parti può anche verificarsi l'inversione così da rendere possibile un tipo di scambio in cui chi accoglie è accolto dall'altro come avviene con la peccatrice in luca 7 36 49 figura antitetica di simone il fariseo ma questa inversione non può essere il prodotto di una strategia che la renda possibile si tratta di un evento imprevisto che rientra nel regime della gratuità di quella gratuità che è il cuore stesso di ogni ospitalità la gratuità manifesta ciò che potremmo chiamare il paradosso dell'ospitalità nascosta nelle nostre esperienze di ospitalità vi è una traccia un germe di gratuità assoluta gli antichi parlavano della legge incondizionata dell'ospitalità illimitata se ne trova ancora qualche residuo nell'obbligo legale di assistenza a persona in pericolo tuttavia bisogna rispettare al tempo stesso le leggi al plurale dell'ospitalità i diritti i doveri i costumi sempre condizionati da una determinata cultura e dunque condizionali ora l'ospitalità di Gesù di Nazareth si orienta nettamente verso l'incondizionato quando accettando fino in fondo il rischio della vulnerabilità e la possibile trasformazione dell'amico in nemico colui che ha intinto con me la mano nel piatto quello mi tradirà Matteo 26 23 paralleli mette in gioco tutta la sua esistenza e a questo punto di non ritorno che la sua ospitalità di Gesù si rivela santa e la sua santità ospitale considerata la diversità storica delle interpretazioni dell'attributo centrale del Dio Santo e del popolo santo nel giudeismo dell'epoca levitico 19 2 pensiamo ai sadducei a cumran agli zeloti ai farisei e ai cristiani questo legame intrinseco tra santità e ospitalità vale una designazione stilistica concentrata nel primo titolo messianico dato a Gesù quello di Santo di Dio tu sei il Santo di Dio Giovanni 6 69 un terzo tratto stilistico della sua santità inizia così a chiarirsi mantenere di fronte alla violenza del nemico l'autenticità e l'ospitalità o ancora l'empatia come capacità di mettersi al posto dell'altro senza mai lasciare il proprio posto questo implica un nuovo rapporto alla morte e alla vita così come la cena l'ultima cena lo ritualizza e Gesù Giovanneo lo proclama nessuno mi toglie la vita ma la offro da me stesso Giovanni 10 18 messa in gioco della sua esistenza diventare e ridiventare incessantemente questo spazio di un'ospitalità radicalmente aperta mondo nuovo che è già nato sono questi tre tratti autenticità o concordanza con se stesso ospitalità o empatia con l'altro libertà rispetto alla morte o dono di sé che caratterizzano la santità di Cristo Gesù il suo stile unico quanti entrano in questo spazio di ospitalità del Nazareno e fanno liberamente riferimento a lui quale santo di Dio sono chiamati ad adottare il suo modo di stilizzazione essi non mancheranno di confessare la loro incapacità a seguire il suo slancio di incondizionato fino alla fine a riconoscere dunque al tempo stesso l'unica santità di Dio e del suo unigenito eppure il loro senso stilistico rivela loro altresì che la dismisura nascosta nell'esistenza di Gesù e effetto della sua grazia a misura di innumerevoli misure cosicché quella di ciascuno di noi diventa perciò stesso incomparabile secondo punto si sarà compreso spero il radicamento profondo di questo stile nella nostra umanità che si trova inevitabilmente di fronte alla distinzione tra la casa mia la casa nostra lo spazio di intimità di cui abbiamo bisogno per vivere e un altrove che altro lo spazio d'altri a casa sua a casa loro cosa che presuppone delle frontiere delle barriere di ogni tipo ma pone anche la domanda come attraversarle e suggerisce e suggerisce l'esito dell'ospitalità parlare di santità ospitale o di ospitalità santa lascia dunque trasparire il versante umanistico del Vangelo di Dio questi luoghi seno alle nostre società e sul nostro pianeta in cui nelle nostre etiche umane e nelle nostre condizioni spesso difficili può emergere ciò che rientra in una gratuità incondizionata e in una libertà propriamente teologale ritroviamo così i tre sentimenti evocati da Papa Francesco all'inizio del suo discorso di Firenze per presentare certi tratti di questo nuovo umanesimo cristiano l'umiltà il disinteresse e la beatitudine i primi due si riferiscono all'esortazione che nell'Apostolo Paolo precede l'inno cristologico della lettera ai filippesi l'inno che dal periclo di Cristo Gesù che il Papa introduce in partenza per orientare il comportamento dei cristiani invitandoli a contemplare il suo volto il volto di un Dio svuotato che ha assunto la condizione di servo umiliato e obbediente fino alla morte filippesi 2 si tratta di attitudini relazionali o ospitali non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria conosciamo bene questi impulsi ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso filippesi 2 cosa che è alla base del gesto ospitale senza cercare il proprio interesse ma anche quello degli altri questa è la condizione elementare sempre filippesi 2 umiltà è uscita dal narcisismo autoreferenziale queste due caratteristiche della santità ospitale sono coronate da un terzo sentimento la beatitudine una felicità acquisita su un cammino segnato dalle beatitudini ma ricompensato dalla gioia come quella aggiungerei che nasce nel momento in cui Zaccheo accoglie Gesù nella sua casa Papa Francesco ha esplicitato questi tratti dell'umanesimo cristiano nella sua esortazione gaudete ed exultate del 2018 in cui troviamo non soltanto le due grandi tentazioni che minacciano il cristiano pelagianesimo e gnosticismo ma anche un lungo commento delle beatitudini già nel suo discorso fiorentino Papa Francesco parla della parte più umile della nostra gente in cui c'è molto di questa beatitudine e quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà del condividere anche il poco che si possiede potremmo aggiungere la beatitudine che emerge dalle nostre esperienze di ospitalità particolarmente frequenti negli ambienti popolari gaudete ed exultate prolunga questo interesse per ciò che accade nella penombra di ogni vita quotidiana parlando dei santi della porta accanto si potrebbe pensare che queste tre attitudini riguardino soltanto la comunità cristiana sembra essere il caso della lettera ai filippesi ma nel discorso di Firenze Papa Francesco dice esplicitamente una chiesa che presenta questi tre tratti umiltà disinteresse e beatitudine è una chiesa che sa riconoscere l'azione del Signore nel mondo nella cultura nella vita quotidiana della gente tocchiamo qui un aspetto fondamentale dell'insegnamento pontificio che non milita solo in favore di un umanesimo cristiano ma vede già nascere in seno alle nostre società un nuovo umanesimo o per dirla diversamente non si accontenta di una chiesa che offre ospitalità a tutti ma la invita anche a rendere presente il Vangelo di Dio in seno alla cultura rendendosi essa stessa presente in essa e domandandovi ospitalità di questa inversione si tratterà in questa ultima parte del mio intervento rendere il Vangelo presente in seno alla cultura e nella vita quotidiana della gente forti di quanto abbiamo detto sul cristianesimo come stile possiamo ora tornare ai due versanti della diagnosi a quanto è stato detto sui nostri fragili itinerari individuali e sulle nostre società in carenza di fiducia non si può negare che la cultura contemporanea formata da molteplici microculture ha preso significativamente le distanze rispetto al cristianesimo e alla chiesa constatando la sua esculturazione i sociologi distinguono oggi vari tipi di rapporto alla tradizione cristiana parlando ad esempio di un cristianesimo patrimoniale o un cristianesimo di folklore accanto a un cristianesimo etico dei valori tipi di appartenenza che marginalizzano sempre di più il cristianesimo ecclesiale e ancor più teologale bisognerà dunque distinguere in maniera più netta la fede in Cristo Gesù di noi cristiani da quanto ho chiamato nella mia diagnosi fede elementare o fiducia elementare senza la quale né un individuo né una società possono sussistere la fede cristiana si iscrive in quel modo nella fede elementare dovendo essere autorizzata dall'esterno e dall'interno essa rientra nella stessa struttura umana della fede elementare ma essa si colloca alla sequela di Cristo Gesù il Santo di Dio e non può mantenere la sua specificità cristica al di fuori di una presenza ecclesiale al servizio di chiunque e della società in favore della loro fiducia e della loro fede elementare nella vita presenza ospitale di cui abbiamo trattato bisogna quindi ricordare prioritariamente ciò che è stato detto del regime di gratuità incondizionata che è il cuore stesso di ogni ospitalità un nuovo umanesimo come impulso intimo della nostra cultura non si crea tutto ad un tratto in modo volontaristico il Vangelo non può mai essere reso presente al modo di un impianto sarebbe aggiungere violenza alla violenza che già che già attraversa le nostre culture che vi produce delle isole ideologiche di tensione di fronte alla crisi di fiducia che vivono gli individui e la società la maniera di Cristo Gesù in Galilea è piuttosto l'offerta gratuita di un'ospitalità quotidiana e più ancora la richiesta umile e disinteressata di ospitalità confidando nel fatto che la fiducia genera fiducia e essa libera le forze creatrici del faccia a faccia quanto abbiamo individuato come segno discreto della presenza dello spirito molteplici campi della nostra vita quotidiana e della cultura contemporanea possono essere così irrigati dalla presenza del Vangelo ne distinguerò due tipi ispirandomi alla distinzione di Papa Francesco tra una crisi antropologica e una crisi socioambientale il primo terreno sono i nostri spazi di socializzazione umana il secondo il nesso inestricabile tra la nostra inospitalità rispetto agli esclusi e il rifiuto di ospitalità che silenziosamente continua a offrirci la nostra terra primo punto una presenza gratuita dei cristiani presso i loro concittadini può avere un impatto importante sul clima globale della società e ripristinare la fiducia bisogna però tenere presente che la fiducia viene generata in gruppi relativamente ridotti che essa è chiamata a maturare nell'incontro con l'altro e grazie alla possibilità di esercitare la sua ragione critica negli scambi nei dibattiti per quanto aspri e nella deliberazione comune il primissimo luogo di formazione della fiducia è la famiglia si può certo riflettere sulla crisi che si attraversa o prima ancora alla crisi del matrimonio si può evocare la cultura del provvisorio la mancanza di fiducia nel futuro che implicano la difficoltà di impegnarsi eccetera si può però al contrario limitarsi alla posizione pragmatica del diritto attuale che consiste nel prendere semplicemente atto delle separazioni e a proteggere la parte più debole soprattutto il bambino tuttavia invece di allinearsi unicamente su ragionamenti di tipo statistico che non fanno che constatare l'aumento del numero dei divorzi e l'arretramento della natalità in molti paesi europei non conviene forse mettere ulteriormente in risalto in modo collettivo ciò che continua a giocarsi nel profondo ovvero la gioia provata quando una nuova generazione viene alla luce ed è generata alla fiducia nell'avvenire o ancora non conviene forse stimolare le nostre società a riconoscere con maggiore modestia che se sono eredi delle generazioni precedenti e invitati a consegnare alle nuove generazioni creativamente ciò che hanno ricevuto è questa responsabilità storica legata al susseguirsi delle generazioni che viene oggi a mancare lasciando il posto a un presentismo assai nocivo alla formazione di una fiducia collettiva la scuola e più globalmente l'insieme dei processi di formazione primaria secondaria universitaria raccolgono il testimone della famiglia le nostre società investono molta energia nell'istruzione dei loro giovani membri per farli diventare adulti responsabili della loro esistenza sono però sufficientemente attente alla formazione della fiducia nell'avvenire come cemento spirituale della convivenza e della stessa vita buona certo l'insuccesso scolastico e universitario suscita riflessioni provvedimenti l'orientamento dei più giovani è diventato una preoccupazione costante così come l'ingresso nella vita professionale tuttavia non è certo che le nostre società siano abbastanza consapevoli del fatto che il loro sistema di valutazione e selezione dei più forti e la valorizzazione dell'iperattività spesso teleguidata dal liberalismo economico esercita un impatto profondo sulla formazione dei bambini dei giovani rischiando di privarli del dinamismo spirituale e di un'autentica fiducia nell'avvenire si costruisce così un castello di carte se questa tendenza prendesse il sopravvento lasciando una parte della gioventù alla porta senza preoccuparsi di tessere un clima di fiducia che solo permette di tenersi insieme capaci di affrontare le prove e l'apprendistato di una cultura democratica e laica come formare non solo il senso dell'uguaglianza di tutti e della giustizia ma anche l'arte del dibattito della deliberazione della decisione collettiva possiamo chiederci se nella situazione di crisi della convivenza che attraversano attualmente i nostri paesi europei e le loro istituzioni un'attenzione ai microclimi non sia la prima via possibile infatti è a livello più elementare soprattutto dei comuni che si può ridurre più agevolmente la non trasparenza e lo scollamento tra la popolazione e i suoi dirigenti favorire occasioni di osmosi tra le associazioni e il mondo politico suscitare più interesse per il bene comune e per la cosa pubblica a condizione è certo che gli attori locali politici e sociali siano più vicini alla vita quotidiana dei cittadini credibili nella loro vita personale distaccati dalla propria carriera e capaci di interessare tutti i loro concittadini al dibattito sulle questioni che li riguardano tutti in breve che essi siano donne e uomini che parlano e agiscono con autorità autorevolezza ripetiamo che nessuna parola ecclesiale lasciata cadere dall'alto può suscitare questa fiducia come sul piano individuale la fiducia si genera al tempo stesso dall'esterno e dall'interno dei corpi sociali e delle istituzioni donde la necessità di una presenza ospitale dei discepoli missionari nelle loro famiglie nelle scuole e istituti di formazione nella vita associativa e politica eccetera vi si trovano i cristiani allo stesso titolo di tutti i genitori educatori attori sociali e politici e la loro credibilità a guadagnare la convinzione e forse la loro gioia non di essere stati coronati dal successo ma di vedere le nostre società e istituzioni ritrovare fiducia in se stesse e nella loro capacità di affrontare collettivamente un futuro incerto l'altro terreno della nostra presenza ospitale e ci si avvia verso la fine l'altro terreno della nostra presenza ospitale cioè la nostra crisi socioambientale non deve essere occultato dal primo vi è infatti un rischio enorme che le nostre preoccupazioni individuali e per le nostre istituzioni elementari ci rendano sordi rispetto al grido dei poveri che il Papa Francesco collega ai gemiti della terra stabilendo un esso intimo tra crisi sociale e il nostro sistema mondiale economico e finanziario da un lato e la crisi ecologica dall'altro auspicando quanto egli chiama una ecologia integrale la crisi ecologica e gli sviluppi esponenziali delle nostre tecno e bioscienze ci fanno interrogare in effetti sul destino della vita umana all'interno della biosfera stessa e sulle condizioni del futuro di una vita autenticamente umana sul pianeta terra le contraddizioni sono oggi diventati lampanti mentre si investono miliardi in un immaginario transumanista la transizione ecologica si scontra con un presentismo irresponsabile e con le potenze economiche e politiche ciniche che lo sostengono è qui che va riascoltata la constatazione del Papa citata all'inizio il problema citando Papa Francesco è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi c'è bisogno di costruire leadership che indichino strade il nuovo umanesimo che gli auspica potrà essere appunto l'impulso interiore di una cultura capace di attraversare la nostra crisi attuale forse la sua sorgente si trova nella scoperta che noi non siamo altro che ospiti ospiti di una terra che non cessa di offrirci silenziosamente la sua ospitalità e di darci in qualche modo fiducia la terra ci dà fiducia aspettando che la fiducia nasca in noi attendendo con impazienza la rivelazione dei figli di Dio Romani 8 nel linguaggio di Paolo se i cristiani possono avere una qualche leadership nella nuova cultura nascente e nell'ambito di questa scoperta eminentemente spirituale offrendo ospitalità a tutti e a ciascuno domandandola in seno alla società invece di comportarsi in essa come in una terra conquistata soprattutto dando accesso all'esperienza di un'ospitalità che ci precede e alla quale dobbiamo la vita cioè l'ospitalità della terra diventare consapevoli che che la terra è donata alle generazioni che la abitano oggi a quelle che ci hanno preceduto così come a quelle che non sono ancora nate e a consentire una vera metamorfosi un modo di accostarsi al mistero della risurrezione se non addirittura di Dio come risurrezione la fiducia assume allora i tratti della speranza di quella speranza contro ogni speranza Romani 4 che si manifesta nella capacità o nella forza di donare gratuitamente ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente è tempo di concludere il cambiamento epocale che si produce davanti ai nostri occhi ci obbliga a interrogarci nuovamente sull'identità della nostra fede esprimerla in termini di stile è un modo per prendere sul serio quanto Vaticano II ha potuto dire della presenza pastorale e missionaria dei cristiani insieme alla società se al tempo del concilio si parlava ancora di umanesimo cristiano la posta in gioco attuale e di rendere più accessibile un nuovo umanesimo umanesimo non solo attento all'unicità degli itinerari individuali ma anche alla convivenza in seno alle nostre società e all'avvenire della vita umana sul nostro pianeta l'offerta e la domanda di ospitalità essendo ciò che collega questi tre ambiti non dimenticate l'ospitalità alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo ebrei 13 2 mi pare che nell'esercizio di questo ministero la chiesa abbia una risorsa notevole che bisogna infine rimettere al centro della nostra assemblea senza dimenticare ciò che abbiamo detto sul cristianesimo come stile la bibbia al tempo stesso classico della cultura europea che permette di decodificare il nostro patrimonio e sacre scritture che custodiscono la parola di dio per chi ha orecchi per ascoltare in virtù di entrambi questi aspetti essa può riunire i cristiani coloro che lo sono a modo loro e molti altri ancora permettendo a tutti di entrare in una scuola di umanità da cui potrà nascere ne sono certo un nuovo umanesimo europeo grazie grazie